Questo è il make-up, che mi devo vestire e preparare perché devo andare i due anni nella... Mipotina, la figlia della sorella del mio ragazzo, che fa due anni e si riesco a riprendere qualcosa. Questo è l'outfit. No! I Chi-Li-Li-Li-Li-Li-LA! Loulou! Sì, sì, sì. Tutto quello che ti vuole, sempre hai formato, non puoi pazienza, tutto si insaporirà. E il piacere cucinare, la ricerca è tutta qua. Vieni, vieni, quante sera, quante sera, quante sera, quante sera, quante sera, quante buona, no, no, il suo nome. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sofia, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.